Siamo tutti, siamo anche assolutamente tanti. Questa è un'iniziativa a cui teniamo in modo particolare anche perché consente di dare un'idea molto sostanziale di cosa l'Ibc fa e cosa l'Ibc farà. A novembre faremo anche un convegno sul libro di tipo, quindi vedete spaziamo in tanti ambiti e lo facciamo perché come anche qualcuno degli autori della pubblicazione ha notato, l'istituto ha questo nel proprio DNA e questi sono valori che, direi, duraturi e che noi cercheremo di... Questa eterogeneità di oggetti in cui ci occupiamo configura da un certo punto di vista un catalogo del patrimonio culturale regionale. Il catalogo del patrimonio culturale che è una serie di concetti un po' diversi da quello più vecchio, di cose d'arte, addirittura più ampio di quello del patrimonio culturale, ma che connota molto bene quello che fa l'Ibc, perché il patrimonio culturale ha acquisito adesso una simpatica molto ampia, soprattutto i francesi su questo lavorano da molti anni, tra l'altro dal 2004, se ne va verrato, l'ibiter del patrimonio francese è regionalizzato, cioè c'è il concorso di regioni, quindi da questo punto di vista noi abbiamo, come dire, da tempo invocato una strada che coglie alcune trame della contemporaneità che sono assai significative. Su questo percorso noi faremo, quindi vedrete questa sala popolarsi di presentazioni ed eventi relativi ai tanti oggetti del patrimonio culturale in cui ci occupiamo. Oggi si occupiamo della presentazione di questo volume elettronico e anche questa è una novità, questo è il primo titolo di una collana che di book o comunque di libri, di volumi, di testi accessibili, legibili online, questo è un pdf interattivo che ha un prezzo, per esempio, a me o per me, delle note che possono essere confundito, lette senza andare a fondo parlo. Detto questo, e per voi per un altro tempo, vedete, io darei subito una parola all'assessore Mezzetti, che ringraziamo di essere qui, e che nella sua presentazione del volume ha evidenziato come in Emilia Romagna questo tipo di realtà, che è una rete di design, delle industrie artistiche, sono una realtà significativa. Dopodiché il nuovo presidente dell'istituto, con il quale ho piacere di lavorare, Roberto Balzani, aggiungerà altre cose assai significative, perché questo è un libro che, a parola che diciamo, nella realtà di Angelo Magnolo, dell'istituto, e in qualche modo consente anche di attraversare campi disciplinari diversi. Prego a sessore.